amiche amici salve a tutti come sempre ben ritrovati la domanda che mi pongono molti è perché la fiamma pilota della mia stufa soffre delle turbulenze terribili che rendono l'uso della mia stufa per niente funzionale oddio la risposta purtroppo è scontata e il problema è che siete sozzi sporchi sozzoni polverosi guardate qua allora vedete ma questa è la tua stufa allora tu sei così e a volte capita anche nelle migliori famiglie cerchiamo di mettere a fuoco per bene faccio un ingrandimento lo vedete questo la vedete questa vitina dorata al centro la vedete quella che c'è cresciuta sopra che sembra un erbetta e invece polvere quella sozzeria che vedete sullo spruzzino sull'iniettore che poi è quello che si trova all'interno di tutto quello che è l'apparato bruciatore iniettori tubazioni fino al rubinetto tubo eccetera eccetera bombola ecco questo qua questa vitina zozza e ahimè peluta o pelosa che cerco di mettere a fuoco questa può essere molto facilmente la responsabile della turbolenza che molti accusano quindi c'è semplicemente da andarla a svitare come vedete ha la testina un profilo esagonale nel mio caso devo usare una chiave da 5 mm da una parte questa è 7 e questa è la numero 8 6 ok è una 6 andare a rimuovere andarla a pulire meccanicamente insomma strofinando un pochino con olio di gomiti come si dice magari lasciando la vitina in immersione per una nottata dentro aceto di vino bianco che è un ottimo sgrassante poi tornando ad asciugare e a pulire insomma lo spruzzino tornerà come nuovo e molto probabilmente il problema delle turbolenze non lo avrete più d'accordo questo è un video flash che vi faccio ora poi pubblicherò anche un video per esteso di come si smonta il tutto ma sappiate che questo è uno dei possibili colpevoli delle vostre turbolenze e delle vostre giornate al freddo gelido d'accordo un saluto iscrivetevi al canale e alla prossima ciao